E' partita la tre giorni dedicata alla formazione per il primo soccorso organizzato dalla Scuola Italiana Emergenze con sedia a Villaricca in collaborazione con Campania Emergenze. La giornata di oggi è rivolta agli operatori dell'emergenza che intraprenderanno la carriera di istruttori del corso Trauma della nostra scuola nazionale. Il percorso istruttori è basato innanzitutto sulle tecniche di esecuzione delle manovre, nonché le attitudini poi di docenti. Il primo appuntamento è dedicato all'estrazione di una vittima di incidente stradale dal veicolo. Il corso Trauma denominato Pre-Hospital Trauma Care è rivolto alla gestione del paziente che è in trauma o sospetto politraumatizzato. In questo caso simulato, logicamente abbiamo già il mezzo arrivato sul posto, grazie al nostro partner Campania Emergenze. Oggi avremo la possibilità di usare dei presidi altrimenti professionali, altrimenti qualificati, proprio per la gestione di tutte le emergenze. Procederemo nell'estrarre, in questo caso una donna da un veicolo incidentato, e sarà trattato come un sospetto politraumatizzato. Fuori, sull'autocarellato. Partner del corso Campania Emergenze, che ha fornito un mezzo di ultima generazione. Questo è un veicolo diverso dagli altri, perché presenta dei dispositivi elettromedicali di altissima qualità, come il defibrillatore Life Pack, a 12 derivazioni, a 15 minuti di tracciato, e in più presenta un pacemaker esterno chiamato Pissing, oltre al DEA, la saturimetria e il pressionimetro. Avendo anche l'aspiratore Turbojet e tutti i presidi del 118 in emergenza. Campania Emergenza nasce nel 1994 e svolge i servizi sanitari avanzati. A partecipare operatori sanitari provenienti da tutta Italia. Secondo me nel nostro lavoro dobbiamo sempre formarci. L'emergenza è una cosa a cui non siamo abituati, e l'emergenza cessa di esistere soltanto quando invece ci formiamo. Sono di Roma, dove abbiamo un centro di formazione che da anni si occupa appunto della formazione del primo soccorso, e oggi siamo qui appunto per aumentare la nostra offerta formativa appunto con un corso di preospital Trauma Care. Diventare istruttore e portare le mie conoscenze agli altri volontari, ad altre persone, affinché questa catena si allarghi sempre più. Comunque c'era da formare nuovi istruttori nella gestione del politrauma, quindi nel corso che stiamo parlando del PTC. Il percorso formativo si svolge presso Villa Maria a Villa Ricca.